Buonasera, benvenuti a questa edizione del TV giornale di Telestense in apertura. Torniamo ad occuparci della chiusura ormai prossima del ponte sul Po per i lavori di riqualificazione. Novità importante in vista di questa chiusura e relativa alla circolazione sul ponte sul Po. Il regionale veloce Bologna-Venezia fermerà nella stazione di Occhiobello, ma solo in determinati periodi. E spunta già una data precisa di quando il ponte verrà riaperto al traffico. Sentiamo. Aveva creato un vero e proprio polverone, anche istituzionale, pochi giorni fa il no di Trenitalia alle fermate aggiuntive dei treni durante la chiusura del ponte sul Po, ma alla fine qualcosa si è mosso, soprattutto dopo l'incontro al Ministero dei Trasporti del 10 maggio scorso. La regione Veneto, dopo aver interpellato Trenitalia, ha comunicato che il regionale veloce Bologna-Venezia-Santa Lucia fermerà in determinati periodi dell'estate in stazione a Occhiobello, ma non a Ponte Lago Scuro. Comunque si potrà raggiungere così il comune Rodigino e l'area rivierasca del Polesine, andate e ritorno, in maniera più agevole e con il trasporto su ferro, quando il ponte sul Po chiuderà la circolazione, il prossimo 11 giugno, per fare spazio al cantiere di messa in sicurezza. Infrastruttura che dovrebbe poi riaprire al traffico l'11 ottobre prossimo, data presunta di fine lavori. Per quanto riguarda i treni, oltre agli ordinari collegamenti con i regionali, fermeranno a Occhiobello anche quattro coppie di treni regionali veloci, nei periodi compresi tra il 17 giugno, prima data utile dopo il cambio orario, e il 10 luglio, e tra il 9 settembre e l'11 ottobre, data in cui si prevede appunto la completa riapertura del ponte. I regionali veloci però non si fermeranno nel comune Rodigino nel periodo fra l'11 luglio e l'8 settembre, perché la rete ferroviaria italiana ha in programma in quelle settimane lavori sulla linea Bologna-Venezia, in corrispondenza della Galleria tra Monselice e Termeugane. Nello specifico, i regionali veloci da Bologna e in direzione Venezia-Santa Lucia partiranno dal capoluogo regionale quattro minuti in anticipo, per fermarsi a Occhiobello alle 7.53, alle 9.52, alle 13.53 e alle 15.53. Viceversa, dal capoluogo Veneto e verso Bologna, il treno regionale veloce fermerà nel comune Rodigino alle 9.04, alle 12.04, alle 13.04 e alle 17.04. La Regione Veneto conferma poi il transito gratuito per i residenti lungo l'autostrada a 13 nel tratto compreso tra i caselli di Occhiobello e Ferrara Nord, per tutto il periodo di chiusura del ponte. È stata presentata questa mattina YouPol, la nuova app della Polizia di Stato per denunciare casi di bullismo e dispaccio di droga. L'incontro si è tenuto con gli studenti dell'Itico Pernico, Carpeggiani. Gli adulti lavorano per i giovani, le istituzioni, la Polizia di Stato lavora per i giovani perché crede che la società migliora se si comincia a realizzare una mentalità nuova. Con queste parole il questore di Ferrara Giancarlo Pallini si è rivolto in mattinata agli studenti dell'Itico Pernico Carpeggiani in un incontro pubblico di presentazione di YouPol, la nuova app della Polizia di Stato che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della questura. Amira ha una collaborazione ovviamente con i ragazzi affinché questi ultimi ci segnalino direttamente i casi di bullismo e dispaccio all'interno degli istituti scolastici in modo che ovviamente noi possiamo avere maggior contezza di ciò che avviene nelle scuole e intervenire nei modi adeguati. Quando sono partiti in prova in alcune città d'Italia, Roma, Milano, Torino, negli istituti dove c'erano fenomeni abbastanza pesanti, con l'utilizzo di questa app sono diminuiti. La presentazione della app è stata anticipata da un incontro del questore e della dottoressa Mancinelli presso la sede dell'ufficio scolastico territoriale di Ferrara, ovvero riunita la consulta provinciale studentesca con l'obiettivo di rendere i giovani protagonisti attivi in una cornice di corresponsabilità educativa con il territorio e con le istituzioni. Molto semplice è la funzionalità di YouPol, l'utente avrà la possibilità di effettuare una chiamata d'emergenza alla sala operativa della questura della provincia dove si trova, sfruttando la geolocalizzazione. Possibile inoltre inviare segnalazioni anche in forma anonima. Siamo in regione, prescrivevano diete dimagranti, curavano i denti, facevano fisioterapia a persone con problemi motori, assistevano anziani ma non avevano i titoli per farlo. Per questo, a seguito di controlli a tappeto del NAS di Bologna sull'esercizio abusivo della professione sanitaria, sono state verifiche anche a Ferrara come nel capoluogo di regione in Romagna. 22 persone denunciate, due strutture sanitarie chiuse. Prescrivevano diete dimagranti, curavano i denti, facevano fisioterapia a persone con problemi motori, assistevano anziani ma non avevano i titoli per farlo. Per questo motivo, a seguito dei controlli a tappeto dei NAS di Bologna sull'esercizio abusivo della professione sanitaria, 22 persone sono state denunciate in Emilia Romagna e due strutture sanitarie del valore di un milione di euro ma prive dei requisiti di legge sono state chiuse. Nel corso dei controlli sono stati passati al setaccio oltre 60 strutture, nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlice, Sene e Rimini e in alcune di queste sono state riscontrate diverse situazioni di non conformità. Complessivamente sono 22 le persone denunciate ai piedi libero per aver svolto e tollerato l'esercizio abusivo della professione medica. Cinque di queste in provincia di Ferrara svolgevano funzioni da infermiere in due strutture ricettive per anziani senza averne i titoli. Altre 13 persone sono state individuate dai NAS nel Bolognese. Falsi dentisti che operavano nel cavorale dei loro pazienti con la complicità del dentista, un falso medico biologo che prescriveva presso un centro estetico piani alimentari e diete dimagranti, un fisioterapista che praticava massaggi terapeutici senza averne i titoli, un medico chirurgo che aveva sottratto o fatto uso improprio di farmaci ed azione anestetizzante. Nella provincia di Forlì denunciati inquattro odontotecnici che svolgevano mansioni riservate al medico, truffando gli ignari pazienti. Sottoposte a sequestro anche due strutture sanitarie del valore complessivo di un milione di euro, in quanto prive dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalla normativa. Intanto le indagini proseguono. Dobbiamo parlare delle case famiglie private istituite per offrire ai loro ospiti un ambiente simile a quello familiare. Le case famiglie istituite nel 2000 da una legge dello Stato devono rispondere a requisiti di qualità sia dell'accoglienza che dell'assistenza, per questo sono sottoposte a controllo periodico della sanità pubblica. E' uno dei compiti, dice il dottor Claudio Filipponi, geriatra dirigente del servizio anziani nella Casa della Salute di Porto Maggiore o Stellato, che ci sono affidati dal Servizio Sanitario Nazionale tramite l'Azienda Sanitaria Territoriale. Ed è un compito di grande responsabilità. L'anziano in questo caso solo e fragile per i disturbi legati all'età, la solitudine a patologie croniche che deve ricevere infatti in queste strutture, accanto ad una ospitalità familiare, anche ciò che serve alla sua salute e alla sua incolumità. In quest'ottica un'attenzione specifica va riservata ai mezzi, alle procedure di contenzione quando possono essere necessarie. Sentiamo. Sulle case famiglie esercitiamo controlli che attengono, per quanto riguarda me, quindi il modulo anziani, alla qualità degli interventi di tipo assistenziali e sanitari erogati agli anziani. Quindi, di fatto, facciamo accompagnamento per migliorare e implementare i processi che i gestori delle case famiglie devono adottare per assistere adeguatamente le persone anziane. In un certo senso abbiamo trasportato le competenze di tipo assistenziale che si utilizzano e si applicano nelle strutture ufficiali, le case protette, le ex RSA, eccetera, in queste realtà che sono realtà territoriali, che sono svincolate dai tavoli istituzionali, ma che stanno diventando sempre più presenti e importanti. I problemi sono principalmente, ripeto, quelli dell'adozione di procedure che siano più che conosciute e che siano dimostrabili dalle persone che lavorano all'interno di queste realtà. noi cerchiamo di dare molta importanza e cerchiamo di ricordare loro l'importanza che devono avere l'adozione di interventi che siano descritti, tracciati, conosciuti e che rispondano alle normative. e questo si va dalla preparazione e somministrazione della terapia, ad esempio, anche all'applicazione di mezzi di protezione che vengono utilizzati, ci siamo accorti, in maniera a volte che necessita di una maggior evidenza formale. La contenzione significa che i mezzi di protezione sono le sponde nel letto o le cinture quando sei in carrozzina, che in queste realtà dovrebbe essere evitato, in tutte le realtà assistenziali dovrebbe essere fatto un ricorso il meno possibile a questi mezzi, ma laddove ce ne sia la necessità bisogna che vengano applicati secondo norme a regola d'arte. Noi verifichiamo che ciò accada. Continuiamo a parlare di sanità. Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi direttori di unità operativa. Si tratta di Maglio Gallier, chirurgia maxilofacciale, Vincenzo Gasbarro, chirurgia vascolare e Alberto Merighi, gastroenterologia. All'incontro con la stampa oltre i tre professionisti erano presenti il direttore generale del Sant'Anna Tiziano Caradori, il direttore sanitario Eugenio Di Ruscioli. Sentiamo nel servizio. Quello che abbiamo presentato oggi è l'esito di quello che è il processo di programmazione che è stato approvato nell'ambito di questa provincia nel gennaio del 2017, che appunto prevedeva il mantenimento, il consolidamento di quelle che erano delle attività specialistiche che connotano appunto questo ospedale. Novità importanti ma anche in un'ottica di continuità. La novità effettivamente più nuova per via del fatto che il nuovo direttore di gastroenterologia è un acquisto dall'esterno e il dottor Merighi. Poi la chirurgia vascolare, in questo caso il nuovo direttore era comunque un componente dell'equip precedentemente diretta dal professor Mascoli. Infine la chirurgia maxilofacciale, anche qui il dottor Gagliè è un allievo del professor Clauser. Io sono molto contento di ritornare a lavorare a Ferrara dove ho lavorato da giovane medico e trovo una situazione, un'unità operativa già consolidata da molti anni e l'impegno è di mantenere le attività che sono fatte e di sviluppare in particolare due aspetti che sono quello della rete gastroenterologica ed endoscopica provinciale e di lavorare in modo multidisciplinare con oncologi, chirurghi. Dal punto di vista di cosa sarà la chirurgia vascolare nei prossimi anni lo dicono i numeri. Essenzialmente noi siamo dei primi centri in Italia per il trattamento dell'aneurisma della rotta addominale e delle stenosi dei tronchi sovraottici. Io sono in questa struttura da circa 20 anni e desidero quindi portare avanti queste specificità che ci sono state riconosciute in un'ottica di modernità soprattutto perché oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie super specialistiche anche con tecniche virtuali che ci permettono di migliorare ulteriormente i risultati di quello che abbiamo fatto finora. Sono stati presentati questa mattina in giunta alcuni importanti interventi che verranno eseguiti in città da quelli post-sisma per la Chiesa di Santa Maria della Visitazione, detta della Madonnina, ai baluardi delle Mura Cittadine, Piazzetta Verdi e Porta Paola. Riparazione e rafforzamento post-sisma della Chiesa di Santa Maria della Visitazione, detta della Madonnina e dell'annessa canonica in via Forminiana a Ferrara per oltre un milione di euro con finanziamento della regione Emilia-Romagna. E' questo uno degli interventi presentati questa mattina alla giunta comunale che sono in via di approvazione e assegnazione da parte dell'amministrazione cittadina. Per la Chiesa della Madonnina il pacchetto di lavori prevede la riparazione e rafforzamento della struttura per risercire i danni causati dal terremoto e consolidare le strutture murarie per migliorare il comportamento complessivo del fabbricato in caso di un eventuale altro terremoto. Per l'ex convento si prevede la demolizione di tutte le murature incongrui e non strutturali, dei pavimenti con i relativi sottofondi, con smontaggio e accastastamento per un loro successivo riutilizzo di pavimenti di pregio incotto. L'altro importante intervento è la grande cornice verde dell'importo complessivo di 1.490.000 euro che comprende quattro subinterventi per le mura cittadine. Il primo è il recupero strutturale del baluardo di San Lorenzo che prevede la ristrutturazione del paramento murario esterno che consentirà il ripristino della piena funzionalità del terrapieno destinato a parcheggio e sede del mercato settimanale. Per il baluardo dell'amore è previsto il completamento degli scavi archeologici e dell'esecuzione delle opere di restauro e consolidamento dei ritrovati. Prenderà così forma il progetto per la realizzazione del parco archeologico del baluardo dell'amore grazie al quale si potranno ammirare dopo circa 400 anni le strutture originarie tombate per disposizioni papali attorno al 1630. Verrà inoltre riqualificata piazzetta Verdi con una nuova pavimentazione ai uoli, arredi e impianti. Infine è previsto l'allestimento per il centro di documentazione sulle mura urbane di Ferrara all'interno del fabbricato Porta Paola. Andiamo a cento per un grave episodio di violenza. Questa mattina in un parco alcune studentesse accompagnate dall'insegnante stavano facendo ginnastica quando sono state aggredite da un uomo di 38 anni di origine ucraina residente vicino al parco perché disturbato dai loro schiamazzi. L'uomo ha scavalcato il cancello colpendo con pugni e schiaffi sia la docente che alcune ragazze. Tre persone tra cui l'insegnante sono finite al pronto soccorso. Sull'episodio è intervenuto immediatamente il sindaco Toselli. Ciò che è accaduto è grave ma purtroppo imprevedibile. La risposta però dovrà essere severa. Ha dichiarato l'uomo non risulta in carico ai servizi sociali. Ha avuto un unico contatto con l'ufficio stranieri per il rinnovo del premesso di soggiorno. Non si tratta dunque di una persona inserita in una rete di monitoraggio e sostegno. Ciò rende assolutamente impossibile presagire un atteggiamento come quello che si è registrato. E sulla base di ciò esorto tutti, anche se so che non sarò ascoltato, ad evitare strumentalizzazioni soprattutto di carattere politico. Sono intervenuti anche i parlamentari leghisti del territorio ferrarese Maura Tomasi ed Emanuele Cestari. Un episodio gravissimo che mette in evidenza non solo quanto il territorio sia stato privato del necessario controllo ma anche quale senso di impunità l'assenza di presidio abbia trasmesso a delinquenti e violenti che si sentono liberi di aggredire addirittura un gruppo di adolescenti accompagnati dall'insegnante in un luogo pubblico in pieno giorno. Vivere nell'insicurezza, sentire di non essere protetti nelle nostre città e nelle nostre case, hanno aggiunto, è essa stessa una violenza a cui è necessario porre rimedio al più presto. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Cetto. E ora andiamo sul litorale. Parliamo di vongole e del clima di tensione che sembra respirarsi da tempo attorno alle concessioni demaniali per la produzione e coltivazione dei mitili. Nei giorni scorsi il presidente di una cooperativa comacchiese del settore è stato denunciato per estorsione un caso che il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Bertani ha voluto portare all'attenzione della giunta regionale con un'interrogazione. Sentiamo di che cosa si tratta. Intimidazioni pesanti rivolte ai pescatori dal titolare di una cooperativa di pesca di Comacchio denunciato per estorsione. E' questo l'episodio che, secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Bertani, sarebbe da ricondurre anche al clima di grande tensione che da tempo si respira attorno al nodo delle concessioni demaniali per la coltivazione e produzione di vongole in laguna. Clima che, secondo il consigliere, sarebbe da attribuire anche alla mancata trasparenza delle concessioni e agli squilibri economici che si vengono a creare. Bertani ha così presentato un'interrogazione su questo caso in regione. Si tratta di un episodio che, se le indagini dovessero confermare, sarebbe davvero intollerabile, spiega il consigliere pentastellato. Venire a sapere che ci sia qualcuno possibile concessionario di un bene pubblico che obbliga qualcun altro a vendere i propri prodotti a prezzi stracciati attraverso continue minacce non è accettabile. Ecco perché, aggiunge, chiediamo alla regione di non sottovalutare questo episodio e di pensare immediatamente a prendere le necessarie contromisure. Nella sua interrogazione, infatti, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, oltre a chiedere di valutare un'eventuale costituzione di parte civile della regione nel procedimento che dovesse aprirsi nei confronti del denunciato, invita Viale Aldo Moro a rivedere l'intero sistema di affidamento delle concessioni. Serve, soprattutto nel settore dell'allevamento della produzione di vongole, un ripensamento generale delle scelte fatte fino ad oggi, oltre che, conclude Bertani, di un'indagine approfondita che escluda che le dinamiche eventualmente utilizzate dalla persona denunciata non siano un caso isolato. Ancora in sciopero i lavoratori turnisti della Vinilup continuano allo stato di agitazione nell'azienda all'interno del petrolchimico di Ferrara. Secondo i sindacati, entro metà maggio il Consiglio di amministrazione della società doveva decidere il destino dell'attività produttiva, ma ad oggi i lavoratori della Vinilup non avrebbero ancora ricevuto nessuna notizia dalla direzione aziendale. Per CGL, Cisle, Willi, i proprietari si sarebbero negati alle richieste di incontro sindacali e istituzionali. I lavoratori quindi prorogano e proseguiranno lo sciopero, l'impianto ormai fermo da un mese, fino alle ore 6 di venerdì 25 maggio. Andiamo a Migliarino, ieri sera al centro polifunzionale andata in scena la compagnia itineraria teatro con lo spettacolo Stupefatto, obiettivo coinvolgere i giovani sulla riflessione sul tema della droga, uno spettacolo organizzato dalla Vescomunale di Massa Fiscaglia. La droga fa male, ma i giovani crescendo vedono amici che, usandola, si divertono, diventano più allegri ed estroversi. Ed è in quel momento che il dubbio si insinua nei loro pensieri. Cercando di capire, dovranno scegliere se credere alle spiegazioni degli amici oppure alle raccomandazioni di genitori educatori. È da questa premessa che parte Stupefatto lo spettacolo della compagnia itineraria teatro. La diffusione dell'utilizzo delle droghe è in grande espansione, purtroppo. E soprattutto si è abbassata anche l'età in cui ci si avvicina alle sostanze. Noi nello spettacolo non vogliamo giudicare giusto o sbagliato quello che fanno i ragazzi, vogliamo che loro facciano dei ragionamenti. E in particolare ci concentriamo sul fatto di sfatare quelle convinzioni che loro hanno. Se tu chiedi in una classe delle scuole medie o delle scuole superiori se fa più male una sigaretta o una canna, ti dicono la canna fa meno male della sigaretta. Ma lo dicono in coro, glielo facciamo dire anche in teatro. Lo sanno tutti questa falsa verità, così come quella dello smetto quando voglio. E noi cerchiamo di farli ragionare per arrivare a capire che queste sono tutte delle false giustificazioni, non sono delle verità. E una volta capito quello gli si scardinano proprio le basi su cui hanno costruito la loro idea di libertà di poter usare queste sostanze. E di solito alla fine sono molto turbati. Uno spettacolo tratto dall'omonimo romanzo autobiografico di Enrico Comi, ex tossicodipendente. Quello che abbiamo cercato di fare insieme a Fabrizio, perché abbiamo scritto lo spettacolo a quattro mani, abbiamo cercato di non prendere nessuna posizione pro o contro le droghe. Abbiamo cercato di mettere i ragazzi nella posizione di riflettere, di domandarsi se è giusto, se è vero, se è sbagliato. Chiediamo a loro di prendere una decisione che riguarda la loro vita, quindi tutto sommato è importante che siano loro proprio a decidere del proprio futuro. Sembra che ce l'abbiamo fatta, perché dalle risposte che abbiamo dai ragazzi, da docenti, da adulti, effettivamente era esattamente quello che ci ponevamo come obiettivo all'inizio di questo importante lavoro, che è durato due anni, la scrittura solo dello spettacolo teatrale. Lo spettacolo, andato in scena al centro polifunzionale di Migliarino, è stato organizzato dall'Avis di Massa Fiscaglia e rientra nel progetto culturale 2018 improntato sul tema delle droghe. Il teatro perché? Perché il teatro comunica, il teatro è cultura, il teatro entra nel sangue della gente, nelle idee delle persone. Tra l'altro verrà replicato per gli studenti. Ci auguriamo che il messaggio di questo teatro, capace di comunicare e toccare l'animo della gente e dei nostri ragazzi, possa portare frutto. È nelle scuole che è importante far passare il messaggio che le droghe non vanno date come un qualcosa che c'è per cui non bisogna combattere, non bisogna riflettere. No, bisogna pensarci, bisogna pensarci e saperlo affrontare adeguatamente, perché nelle scuole purtroppo sempre di più le droghe passano in maniera silenziosa, senza che nessuno se ne accorga. Ce ne accorgiamo solo quando il Paese non c'è più niente da fare. Bene, con questo è tutto. Termina il nostro TV giornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.